Buongiorno a tutti, allora, 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 dopo avervi parlato di Serie A andiamo a vedere come è andato il fantacalcio laghe, perché è stata una giornata pareggiosa, hanno pareggiato tutte e devo dire che mi posso considerare fortunato vista la situazione della mia squadra senza completamente l'attacco, su sei attaccanti se ne sono salvati due, di cui uno è entrato al settantaduesimo, perché sennò giocavo in nove, se entrava cinque minuti dopo ero fottuto, fortunatamente l'allenatore l'ha messo dentro al settantaduesimo, quindi Indy per cui gioca più di un quarto d'ora e Indy per cui gli ha dato il voto, anche positivo alla fine della fiera, perché un sei è sempre un voto positivo, ma ragazzi miei andiamo a vedere le sfidone, la prima sfida è stata quella interiore, Forza Juve che ha sfidato FC Indy e vediamo come si sono schierate le due squadre, Forza Juve, Tataru Sanu in porta, Goses Bremer e Voivoda in difesa. Pessina, De Ketaler, Strefezza e Pellegrini a centrocampo, ma ahimè Pellegrini Lorenzo non gioca più nella Roma, non la vogliono più far giocare, senza, no proprio non ha giocato, e al suo posto è entrato Ederson, in attacco di Maria Caprari e Raspadori che non ha giocato, ma è stato sostituito più che degnamente dal buon Bogat. Ha risposto FC Indy con Czesny in porta, Bastoni, Carlos Augusto del Monza in difesa e Danfris, scusate Raffredorino, dicevo Danfris che non ha giocato, è stato sostituito più che dignitosamente dal buon Mancini, anzi direi positivamente dal buon Mancini. Centrocampo, Libidine, Bonaventura, Zerinsky, Filippe Anderson e Gigione Alberto. In attacco la coppia Inter Milan, Lautaro Martinez, Raffaele Au più Sanabria, che però non ha giocato, è stato sostituito così così da Piontek. Ma andiamo a vedere il risultato. Forza, Juve, portiere 5 e mezzo, però ha preso 4 pere, no 3 pere, 3 pere, ha preso solo 3 pere, 3 pere, no ha preso 4 pere, scusate, si ha preso 4 pere, Tatarussano ha preso 4 pere, quindi 1,5. Poi vedremo l'altro, aspettate perché mai ridere prima. Difesa, 17 e mezzo, però c'è l'assist di Boivoda, 18 e mezzo. Centrocampo, 23, però c'è un giallino di troppo, presumo. Aspettate che con quell'attimo che controllo non è venuto bene, però credo ci sia un sì, perché Ederson, oltre a fare una partita di cacca, ha preso anche il giallo. Quindi 22,5 il centrocampo, attacco libidine, perché l'attacco ha fatto la bellezza di... scusate, mi sono perso un attimo. 22 punti, però ci sono i vari gol, assist, eccetera, tutti i bonus, 31 per un totale di 73,5. Proseguiamo a vedere cosa ha fatto l'altra squadra, ecco, è andata a posto, no, non è andata, non vuole andare a posto. Oh, adesso ci siamo, così possiamo vedere cosa ha combinato. FC in da portiere, 5, poi ha preso anche tre pere, 2. Difesa, 18,5 e 18,5 resta perché non è successo nulla di eccezionale. Centrocampo 26,5, ma qua hanno fatto di tutto e di più perché c'è l'assist di Luis Alberto, il gol di Luis Alberto, il gol di Felipe Anderson e quindi con 7 punti in più si sale a 33,5. Attacco, 17 hanno fatto e 17 resta, per un totale di 71, quindi per cui, ragasoli, ragasoli, 2 a 2. 73 e mezzo a 71 viene fuori 2 a 2. 71 sono proprio i punti giusti giusti per fare i due gol e non perdere questa partita. Quindi Forza Juve FC in da 2 a 2. Forza Juve era abbastanza inviperito perché fa una volta che riesco a fare più di 70 punti, riesco a fare due gol, non riesco manco a vincere. Eh vabbè, però sono sempre punti e vuol dire che comunque la squadra comincia forse a rodarsi, chi lo sa. Magari fa come la Salernitana riesce a salvarsi, come quell'anno, anzi fa come il contrario, sì, come la Salernitana l'anno scorso, sembrava, eh, poi improvvisamente, toc, il risveglio e si evita di pagare la pizza. È dura, però tutto può succedere, soprattutto se cominciasse a fare più di 70 punti. Andiamo all'altra sfida, la capolista Joao Norris sfidava la Supposteam, quindi si dava per scontato una vittoria della Joao Norris contro la Supposteam e andiamo a vedere come si sono messe in campo le due squadre. Partiamo dalla Joao Norris, che è scese in campo con Rui Patricio in porta. Difesa addirittura a 5, perché era, eh, ha messo la difesa a 5. Kim, Smolin, Skriniar, Milenkovic della Fiorentina e Lazzari, che non ha giocato, è stato lasciato fuori, è entrato, ma ormai senza voto, quindi al suo posto ha giocato Toloi. Centrocampo, Vlasic, Milinkovic, Savic e Politano, ma Politano non ha giocato, è stato sostituito da Locatelli. In attacco la coppia di Bala Osimè, che direi che è più che sufficiente, può permettersi il lusso di giocare con il 5-3-2. Neanche col 3-5-2, con il 5-3-2. Dalton è con un attacco così, di Bala Osimè fa libidine. Ha risposto la Suppostin. Provedel in porta. I Bagnic di Lorenzo e Danilo in difesa. Tonali, Ilicic e Cialanoglu a centrocampo con Pereira, ma purtroppo Pereira non ha giocato. I suoi sostituti, che erano Radonjic e Candreva, non hanno avuto voti. Strano perché Quadrado, scusate, Candreva, mamma mia. Quadrado e Radonjic, uno non ha giocato, l'altro è entrato, ma non ha avuto il voto. E quindi il povero Suppostin ha dovuto pure giocare in 10. In attacco Giroud, Lukaku e Abra. Andiamo a vedere com'è andata. Infatti dicevo, non è possibile che sia Candreva, ha detto che ha fatto anche un cross bello. Già sentire che Andreva fa un cross bello potrebbe succedere qualcosa di molto bello. Fa anche rima. Allora partiamo con la Joao Norris. Portiere 6. Non ha preso gol, non ha preso nulla. De Gialline gol, niente. 6. Resta. Difesa 29. Ricordiamo che Joao Norris ha dovuto giocare con la difesa a 5. Quindi 29 punti. Però c'è il rosso a Skrignal, il giallo a Kim e si scende a 27 e mezzo. Centrocampo 19 e mezzo. Però c'è Milenkovi-Savic che fa tutto, segna e si fa anche ammonire. Quindi da 27, da 19 e mezzo si sale a 22, quindi due punti in mezzo in più. Attacco 14 e mezzo. Però abbiamo il doppio assist di Dybala, di Spezia Roma. Doppio assist di Dybala. Non mi ero accorto che era lui che ha fatto la spizzatina di testa per Abram che se ne andava in porta. Se non era fatto dalla colpita di testa poi Abram non si è inserito. L'altra invece ha fatto l'azione solitaria, passaggio in mezzo. E poi il solito gol di Ozymen. 11 reti nelle ultime dieci partite. Ormai ha preso il volo. O gli viene l'attacco all'auto-aro che per 7-8 partite non segna più o se no qua sono uccelli per diabetici. Perché questo parte sempre con tre punti garantiti da Ozymen. Per un totale di 19,5 dell'attacco. Perché è 7,5 più 2,9 e mezzo. 7 più 3,10. 10 più di 9,5 19,5. Il totale di John Norris è 75. Quindi per un punticino solo il rosso a Skriniar diciamo. Non è che se anche prendeva il giallo avrebbe preso 75,5 e non cambiava nulla. Non riesce a fare tre reti. Si deve accontentare di due gol. Vediamo la suppostì che come dicevo prima ha dovuto giocare in 10 perché mancava un centrocampista. Portiere 6 e resta 6. Difesa 19 però abbiamo i gol di Danilo, Danilo, Danilone e di Lorenzo e quindi da 19 si passa a 25. Centrocampo 18 però abbiamo un assist, un assistino, sì quello di Illich e quindi si passa a 19. Attacco anche questo 18 però c'è il gol di Abraham e quindi si sale a 21. per un totale di 71. Quindi per il rotto della cuffia anche il buon su Postin riesce a fare un miracolo giocando in 10, fare due reti e riuscire a bloccare la John Norris sul 2 a 2 che quindi non può fuggire. Resta lì. Vediamo cosa ha combinato Interlive contro l'Amelino Steam. Una partita veramente da pianto. Aspettate che non trovo l'altro fogliettino. Dove è finito l'altro fogliettino della Belinos? C'è la Belinos? Ah no, c'è, c'è tutto, c'è tutto. C'è tutto, possiamo proseguire. Allora, l'Amelino Steam contro Interlive. Vediamo come si sono schierate le due squadre. Interlive è sceso in campo con... Sono un genio, sono un genio. Silvestri in porta, miau. Difesa a quattro, eh, anch'io scostretto alla difesa a quattro con Di Marco, Udoge, Biraghi e Beko, o Beko, che dir si voglia. Centrocampo Lazovic frattesi Barella e poi mi sono rischiato l'attacco a tre Bonazzoli, Jovic e Zola. Il guaio è che Bonazzoli è entrato ma senza voto come al solito perché come al solito me lo mette dentro a Babbo sempre tardi. O lo fa giocare subito o non me lo fa giocare. Quindi Bonazzoli senza voto. Enzo là purtroppo scoperto al sabato, quando ormai avevo già messo la formazione, che si è rotto il soleo e quindi Bonazzoli me l'ha sostituito Satriano che come dicevo fortunatamente è entrato al settantaduesimo e quindi ha riuscito a portare a casa il suo seino. Purtroppo invece l'altro giocatore era Henry senza voto anche lui, quindi ho due giocatori senza voto, Henry e Bonazzoli. Enzo là non ha giocato, quindi gli attaccanti posso metterne cinque, due in panchina e tre in campo. Se su cinque tre non mi giocano capite che è un problema. Il guaio è che l'ho scoperto dopo, quindi praticamente l'unico giocatore che ha giocato quasi tutti i 90 minuti è stato Jovic che era da strozzarlo perché se mi segna quel gol lì è però sbagliato. Quindi il Gigione e la sua interlive ha dovuto giocare in dieci. Poco male perché comunque vediamo l'Amelino Stim. Onana in porta. Rui Romagnoli e Teo Hernandez in difesa ma Teo Hernandez non ha giocato e è stato sostituito indegnamente da Calabria. Centrocampo Pasalic, Kostic, Zaccagni e Candreva. In attacco Muriel, Caputo e Beto. Il problema è che Muriel non ha giocato o meglio Muriel senza voto anche per lui. Dessers e Arnautovic che erano i due sostituti non hanno giocato e quindi anche l'Amelino Stim ha giocato con solo due attaccanti e non tre quindi con solo dieci giocatori. Alla fine questa partita tristissima eccetera eccetera vediamo com'è finita. Interlive, portiere 6, senza infamia, senza no del ball Gattone e Silvestri. Miau e 6 resta. Difesa 24,5 e 24,5 resta. Centrocampo abbiamo il solito giallo di Barella che per me ha fatto apposta perché sapeva di essere diffidato così salta la cremonese ma non salta il derby perché ha fatto di tutto per farsi ammonire. In compenso ho il gol di Lasovic che mi sta dando delle piccole soddisfazioni. Spero prosegua così. Quindi abbiamo il centrocampo che mi fa 19 più due punti e mezzo grazie al gol di Lasovic e al negativo del giallo a Barella e si sale a 21,5. Attacco 11,5. Su tre ne hanno giocati due di cui uno 20 minuti esagerando quindi 11,5 è già tanto. Per un totale di 63,5 che vuol dire zero gol. Ha risposto la Melino Stim. Portiere 5,5 però ha preso un gol 4,5. Difesa 17 e resta 17. Centrocampo 24,5 però Zaccani si è messo a fare il fenomeno giustamente contro di me. Quattro punti in più gol e assist di Delbon Zaccani 28,5. Quest'anno Zaccani sta facendo un campionatone da paura. Ha già fatto otto gol. Sti cazzi. E Candrè, buonanotte, attacco 11,5. Anche per lui è 11,5. Resta per un totale di 61,5. Quindi il Gigione con la sua Interlive nonostante giocasse in 10 contro l'altro avversario anche lui in 10 che ha fatto due punti in più lo stesso. Visto che c'è gente che è sempre lì che piange che ah ma Gigi sei fortuna. Io con la mia squadra ridicola in 10 senza attacco con un attaccante aiuto aiuto sono riuscito lo stesso a fare più punti del mio avversario. Pareggiando giustamente perché due punti sono pochi. A meno che non veniva a 66 a 64 allora era una vittoria. Però alla fine della fiera Interlive di Dosti 0 a 0. Terzo pareggio di giornata. Tutte pareggiano. La classifica rimane invariata che adesso andiamo subito a vedere. Perché abbiamo... Se mi si apre la classifica magari eccola qua. Eccola qua. E la classifica eccola qua. Come cantava quello là. No. Non ne vuole sapere di aprirmi la classifica. Allora. Classifica. Ci riproviamo. Eh va bene. D'altronde. Piccoli problemi tecnico-tattici. Non ti è che mi scrivi la classifica sempre a portata di mano e poi non me la fai vedere. Eh scusa. Anche te. Forse ce la facciamo. Eh. Forse ce la facciamo. Va bene. Mi stoppo un attimo. Vedo di risolvere il problema della classifica. Bene 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 bene. La classifica una che cambia poco rispetto a settimana scorsa visto che abbiamo pareggiato tutti. E quindi la Joao Norris resta sempre prima a 27 punti con un totale di punti fatti di 1110 punti. Al secondo posto ma sempre a 27 punti quindi siamo stessi punti fatti però ci sono i punti fantacalcio che sono nettamente inferiori sono solo 1063,50. No 1069,50 scusate c'era un 9 che sembrava un 3. 1069,50. Al terzo posto a 23 punti quindi a meno 4 da Interlive ma con 1080 punti virgola 50 abbiamo la Melino Stim. A 22 punti. FC Inda con la bellezza di 1104 punti. Al quinto posto a 16 punti abbastanza distanziato la Suppostim del Piangina perché ormai l'abbiamo soprannominato il Piangina a 1063,50 punti. E ultimo ma non ancora Domo Forza Giuve con 9 punti e 996 punti fatti. La classifica per le prime quattro è ancora discretamente corta può succedere ancora di tutto. Mancano tutte le 19 partite del girone di ritorno. Tenete conto a febbraio faremo il mercato di riparazione quindi potrebbero arrivare dei giocatori che possono cambiare gli equilibri ancora di più del torneo. Gli scambi potrebbero fare la differenza. L'anno scorso lo fecero perché è il mio scambio che mi permise di avere immobile per Vlaovic mi permise di vincere al fantacalcio, permise alla Suppostim di recuperare punti perché in questo scambio lui ci guadagnò Leao e Lautaro Martinez perché colui che voleva Vlaovic per avere immobile dalla Suppostim gli diede Leao e Lautaro Martinez. Io mi presi immobile che il suo lo fece. Alla fine della fiera chi ci guadagnò di più fu la Suppostim che si ritrovò con un paio di gol in più rispetto a me ma con due giocatori. Immobile i suoi 11 gol li fece e mi permise di vincere alla fine il fantacalcio. Quindi vedremo cosa succederà tra un paio di settimane. Non so quando faremo. Non ne abbiamo ancora parlato di fare l'asta nuova per il mercato di riparazione. Dovremo sentire anche il ragazzo che sta a Roma quando è disponibile per appunto fare la direttona perché noi siamo qua e lui sta a Roma. Comunque il fantacalcio si fa libidine perché siamo ancora tutti lì. Mi è andata bene ripeto mi è andata bene avevo già dato per scontato la sconfitta. Pareggiare in 10 io sono ben felice e contento non mi lamento mai. D'altronde il mio primo obiettivo è arrivare alla salvezza. E poi tutto quello che viene in più è di guadagnato. Quest'anno non ho vinto l'anno scorso. Ero già felice e contento perché era la prima volta che vincevo al fantacalcio in vita mia. E quest'anno sono lì. Sono lì al secondo posto a pari punti con la differenza. Chiamiamola gol a favore della John Norris. Però sono lì che me la gioco. E ne è già tanto. Con un attacco con Satriano. Bonazzoli. Jovic. Destro che è morto. Henry. E non mi ricordo più qual è l'ultimo ma veramente aspettate che ve lo dico. Enzola. Enzola si è anche rotto. Stava facendo un campionato della Madonna. Adesso sta fuori un mese. Vabbè. Mi barcamanerò. C'ho Quaradona. Spero che settimana prossima Quaradona torni in campo. Mi faccia la sua bella triplettina che così mi risolve i problemi. Detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.